Tre gare in programma questa sera per completare il quadro della terza giornata di Lega Pro, tutti alle 20.45, tre derby che chiuderanno questo turno, ma andiamo per ordine, la doce Cerignola dell'ex Bianco Veta di Vantisci affronterà tra le Muramiche il Brindisi che negli ultimi giorni ha rinforzato il proprio reparto offensivo con gli innesti del figlio d'arte Simone Gans e dell'esperto Cristian Galano, padroni di casa che sono retusi da due pareggi nei primi 180 minuti di gioco. Il giugliano di Mister Bruno di Napoli e di Gabriele Bernardotto che nelle prime due partite ha collezionato una vittoria e una sconfitta affronterà in casa la sorprendente Juve Stabia di Guido Paiuca, una partita che di sicuro può essere aperta ad ogni tipo di risultato, con due squadre che proveranno a giocarsela dall'inizio alla fine a completare il quadro di Erno, il Monte Rosi e l'ex Bianco Irde Fabrizio Romandini ed il Latina. La squadra La Tuscia come l'Avellino ha un solo punto in gradatoria mentre i nerazzurri di Daniele Di Donato hanno ottenuto sei punti fino a questo momento, rinviata invece la partita tra Taranto e Messina per indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, ancora da decidere la data del recupero tra Ionici e Peloritani.